La gestione dei rifiuti a Pescara sta provocando un piccolo terremoto nel centro-destra. La città adriatica, in fatto di raccolta differenziata, dimostra la sua virtuosità con un numero un bel 49,6% la media comunicata agli enti preposti. La partenza del servizio del porta a porta, centro e porta nuova annunciata dall'assessore Isabella Del Trecco, riporta l'attenzione anche sull'inevitabile confronto sollecitato dalla nuova Pescara, perché è pur sempre di un servizio che si tratta e che come tale attende al vaglio l'ipotesi della unificazione. Spoltore è un piccolo centro e gode della percentuale media del servizio che si attesta sul 67,4%, mentre Montesilvano è ferma intorno al 38%, anche se l'assessore all'ambiente Paolo Cilli punta a una nuova sfida che superi presto il gap. È intanto fissa l'obiettivo del 40%, traguardo che si potrebbe presto raggiungere grazie a politiche che tangano conto dei rifiuti che non passano nelle maglie di controllo dell'amministrazione e che quindi non vengono contabilizzati. Siamo convinti che il percorso della raccolta differenziata in città debba essere concluso. Ci confronteremo giovedì su metodi, tempistiche, modalità, perché noi vogliamo che la raccolta differenziata sia un surplus e non un problema per i cittadini. E quindi quando si costruisce un percorso che porta alla parte restante della città, quella che manca, quindi la zona centrale che d'estate è comunque molto frequentata anche per la presenza di molti ristoranti, si immagina di costruire la fine di un percorso che tenga conto delle aree che mancano, bisogna capire quali sono le eventuali criticità e capire quali sono i tempi per poterla realizzare. Il must deve essere servizi migliori per i cittadini, non disagi, non disguidi. Il progetto di raccolta in centro sarà uno slalom tra le piccole difficoltà logistiche come l'area pedonale e il transito dei mezzi pubblici. Facile prevedere che non ci saranno i mastelli lungo le vie del centro, poco graditi non solo ai residenti, meglio buste che verranno ritirate nelle ore notturne e campane di raccolta, per esempio per il vetro e l'umido. Come per Montesilvano si renderà necessaria l'installazione di qualche isola ecologica e l'attivazione di un servizio creato ad hoc per i commercianti e per i ristoratori.